Ha battuto tutti questi gloriosi sommelier perché dentro di sé ha il DNA del grande sommelier. Il premio quest'anno si è spostato in 300 metri da Via della Regia alla Pace. Il prossimo anno chissà dove andrà. Speriamo vicino. Comunque faccio tanti in bocca al lupo anche per il nazionale, caro. Bravo. Grazie.